E ben ritrovati su TRM H24 con una nuova edizione della nostra informazione. In primo piano ci occupiamo dell'ex ILVA, giornata particolarmente tesa a Taranto. Gli operai e i sindacati hanno bloccato la statale per alcune ore dopo la notizia di un possibile prestito ponte che il governo starebbe pensando di concedere all'attuale governance. Durante gli scontri poi è anche rimasto ferito il sindacalista Francesco Rizzo. Ripercorriamo la vicenda nel servizio. E' inimmaginabile che il governo taccia e perda tempo. Sono le parole di Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, al termine di una giornata particolarmente tesa a Taranto nei pressi dello stabilimento ex ILVA. Ad accendere la scintilla una notizia secondo cui il governo starebbe pensando a una norma per lo stabilimento che prevederebbe non un aumento di capitale per il passaggio in maggioranza di Invitalia, ma un prestito ponte a 18 mesi di 650-680 milioni di euro per sanare le difficoltà di liquidità finanziaria. Chiediamo al ministro Urso di chiarire la veridicità di questa notizia. Se fosse vera si tratterebbe di un atto irresponsabile da parte del governo, lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale Wilm. E' stato questo dunque a scatenare la tensione durante il consiglio di fabbrica dello stabilimento, organizzato da FIOM, Wilm e USB, per fare il punto sulla vertenza. Alcune decine di lavoratori hanno occupato la Stata Le Sette in corrispondenza della direzione aziendale. Ci sono stati scontri tra vigilanti e lavoratori, che hanno coinvolto anche rappresentanti sindacali con il lancio di fumogeni, urla e spintoni. Durante la mattinata Francesco Rizzo, dell'esecutivo confederale USB, è caduto per terra, riportando traumi alle costole. Il sindacalista ha poi accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Il governo ha promesso una montagna e ha partorito un topolino. Siamo venuti per strada per dire che noi non ci formeremo. Questa società va cacciata da tardo, punto e basta. È incredibile che ancora una volta si dia un prestito ponte da quello che sta emergendo anche dalla stampa ad Arcelor Mittale, che ha portato in una condizione comatosa quello stabilimento. Noi crediamo e la mobilitazione di oggi, così come quello lo sciopo del 21 novembre, ci porterà a dire che non siamo d'accordo che il governo stanzi dei soldi a fondo perduto ancora una volta ad una multinazionale. Sono soldi pubblici e vanno spese per rilanciare quello stabilimento dal punto di vista ambientale e occupazionale. Penso che un governo serio, in una nazione seria, doveva prendere veramente le distanze da questa condizione e non solo prendere le distanze, ma mettere in campo e attuare tutta una serie di meccanismi che mettono a garanzia sia i cittadini, i lavoratori, ma l'intero territorio. Il blocco della strada statale è stato rimosso dopo un paio d'ore, quindi in tarda mattinata. La decisione è stata presa dopo la convocazione di un incontro in prefettura. E' questo pomeriggio dunque l'incontro in prefettura. La nostra idea è di organizzare entro il 10-11 gennaio una manifestazione unitaria dei lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto, diretti e dell'indotto a Roma sotto Palazzo Chigi. Per il 28 dicembre invece convocheremo un incontro con gli altri locali a cui chiederemo di unirsi a noi per la prossima mobilitazione. Lo ha riferito Francesco Brigati, segretario della FIOM CGL di Taranto, proprio dopo l'incontro che i sindacati hanno avuto con il prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Voltiamo pagina. È stata presentata dalla Commissione Europea la dichiarazione di spesa relativa ai fondi comunitari. La Puglia è tra le regioni più reattive e di questo è soddisfatto il presidente Michele Emiliano. Come accade ogni anno, dicembre è tempo di bilanci e ci sono quelli che pesano di più e che arrivano direttamente dall'Unione Europea. La Commissione Europea ha presentato infatti la dichiarazione di spesa relativa ai fondi comunitari. Quelle messe in atto da Regione Puglia superano il 65%. A comunicarlo è la stessa Regione Puglia che evidenzia la buona capacità di spesa dei fondi dell'Unione Europea che la pone ai vertici del Paese. L'importo totale cumulato proprio dal POR Puglia Fair FSE 2014-2020 certificano fino a oggi il 95% della spesa rispetto alla dotazione complessiva del programma. Un buon risultato, commenta il governatore Michele Emiliano, che certifica come la Puglia abbia avuto un'ottima capacità di spesa. In un contesto gravemente segnato dagli effetti della guerra, la Puglia si colloca a pieno titolo in quella parte del Paese, non solo del mezzogiorno, più reattiva e attenta a cogliere le opportunità presenti. Il termine ultimo per spendere le risorse residue è fissato a livello comunitario al 31 dicembre del 2023. Andiamo in Basilicata. Nell'occhio del ciclone ancora il capodanno voluto dall'amministrazione comunale di Matera che culminerà con il concerto di Gigi D'Alessio. Per cinque consiglieri comunali è ingiustificato il frazionamento dell'appalto in tre affidamenti diretti. Vediamo il servizio. E' tutt'altro che affievolita la polemica sulle scelte operate dall'amministrazione comunale riguardo l'animazione di Capodanno nella città dei Sassi. Questa volta, nell'occhio del ciclone, non ci sono i gusti musicali di ognuno, sempre opinabili, ma le modalità in cui avviene la spesa pubblica. Su questa, secondo i consiglieri di opposizione Pasquale Doria, Cinzia Scarciolla, Liborio Nicoletti, Filomena Tosti e Marina Susi, è più opportuno riflettere. Per questo motivo presentano un'interrogazione per conoscere le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento nell'appalto del Capodanno 2022 in tre affidamenti diretti, per un importo complessivamente superiore a quello permesso in caso di affidamento diretto. I consiglieri vogliono sapere anche perché non si è proceduto, con congruo anticipo temporale, ad una programmazione di tali eventi di fine anno. Aspetto più che ovvio, ricordano, se si considera l'opportunità di evitare di utilizzare l'istituto dell'affidamento diretto e consentire così ad altri operatori del settore dello spettacolo di poter partecipare ad una procedura comparativa. Oltre 280 mila euro in tutto deliberati verso tre soggetti cui sono stati disposti gli affidamenti diretti che sono commercialmente, contrattualmente, tecnicamente e operativamente collegati e interconnessi nella realizzazione di uno stesso evento, ovvero il concerto del 31 dicembre di Gigi D'Alessio. Un frazionamento artificioso degli appalti per i consiglieri di opposizione, vietato proprio dal codice degli appalti pubblici, cui vanno ad aggiungersi anche le linee guida dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. La cronaca a Bari frode sul bonus facciate. Per questo è stato arrestato un imprenditore edile di 49 anni. L'uomo è accusato di riciclaggio ed emissione di false fatture. Avrebbe dato vita ad un circuito fraudolento volto alla creazione, circolazione, monetizzazione e utilizzo in compensazione di crediti di imposte inesistenti per lavori edili su facciate in realtà mai eseguiti. Per questo un imprenditore edile di Bari, Alessandro Trerrotoli, di 49 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta su una maxitruffa legata al bonus facciate. L'uomo in particolare è accusato a vario titolo di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Nel giugno scorso era stato disposto, nei suoi confronti, un sequestro preventivo per 140 milioni di euro, ritenuti l'illecito profitto ottenuto dalla cessione di presunti crediti di imposta fittizi per il bonus facciate. Secondo gli investigatori, anche i successivi cessionari che hanno acquistato gli ingenti crediti di imposta direttamente dall'imprenditore indagato sono risultati privi di una capacità reddituale finanziaria adeguata per sostenere un rilevante sborso monetario. Oltre al primo sequestro di 140 milioni nell'ottobre scorso, è stato eseguito poi un secondo provvedimento preventivo. Dopo altre verifiche dei finanzieri, infatti, sarebbe emerso che l'ex moglie dell'indagato avrebbe ricevuto denaro proveniente dalla monetizzazione di parte dei crediti inesistenti, impiegando talune delle liquidità così ottenute nell'attività economica di un SRL con sede a Lecce, avente per oggetto la fabbricazione di articoli elettromedicali. Voltiamo pagina. Taranto, l'amministrazione comunale è pronta a lanciare la terza edizione del bando case a un euro per ripopolare e rivitalizzare il borgo antico della città. L'amministrazione comunale di Taranto, dopo le prime due edizioni del 2021, è pronta a lanciare il terzo bando case a un euro per l'accessione a un prezzo simbolico degli immobili che si trovano in città vecchia. Il bando nasce con l'intento di ripopolare e rivitalizzare il borgo antico attraverso azioni di recupero e la valorizzazione degli immobili. L'iniziativa ha consentito, con la prima edizione, chiusa a gennaio 2021, di mettere a bando sette edifici, ognuno con diverse unità immobiliari, assegnandone quattro e chiudendo per tre il rogito. Mentre per la seconda edizione, chiusa a novembre dello scorso anno, sono stati nove gli edifici messi a bando, con l'assegnazione di sette e la stipula del rogito di tre. Vista la partecipazione alle due scorse edizioni, la risonanza mediatica anche a livello internazionale e le continue e numerose richieste di un nuovo bando, abbiamo deciso, ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci, di proporre la procedura potendo contare sull'ormai consolidata esperienza della direzione patrimonio. Preliminarmente, ha aggiunto l'assessore al patrimonio Gianni Azzaro, si sta procedendo alla ricognizione dei beni da candidare, proponendo uno standard qualitativo che renda ancora più appetibile la partecipazione e che dia informazioni di maggior dettaglio ai proponenti. Stiamo costruendo il team che seguirà la procedura, affinché provveda al coordinamento, alla predisposizione, alla promozione e alla gestione della terza edizione del bando. Torniamo in Basilicata, al mercato Campagna Amica della città dei Sassi, Coldiretti propone un Natale all'insegna della tradizione. Oggi 23 dicembre, nel mercato di Campagna Amica, ecco una giornata molto particolare, le degustazioni di Natale per promuovere i prodotti di Osolo Lucano. con degli ospiti giovanissimi ed eccezioni. Allora, all'interno del mercato di Campagna Amica abbiamo degli ospiti di eccezione, che sono i bambini della scuola La Torraca di Matera, che hanno potuto conoscere i prodotti agricoli della Basilicata, hanno potuto imparare, diciamo, le varie razze autoctone e i prodotti di denominazione territoriale. Quindi c'è stata tanta curiosità da parte loro nel conoscere dei prodotti che, evidentemente, ancora non conoscevano. Attraverso delle attività educative e di sensibilizzazione abbiamo realizzato la ruota della stagionalità per far imparare loro, diciamo, quando mangiare nel momento giusto della stagione un prodotto agricolo specifico. All'interno del mercato poi hanno fatto la merenda contadina con il pane, miele e prodotti agricoli della nostra terra e tanta animazione anche con dei doni offerti da Babbo Natale e dal marchio Io Sono Lucano, che è un marchio collettivo di filiera della Coldiretti. È stata una bellissima esperienza. Abbiamo portato qui a visitare i nostri bambini che sono le due classi seconde della scuola primaria Marconi dove hanno potuto conoscere e constatare i prodotti ottimi che ci sono nella nostra terra, quindi in Basilicata. Molte volte si dà per scontato la conoscenza un po' di tante cose, ma in effetti i bambini devono conoscere e soprattutto vedere e toccare con mano tutto ciò che effettivamente la nostra terra può offrire, che è tanto ed è tutto ottimo. E noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo per averci seguito.